Diamo questa notizia. A settembre, giorno da stabilire, ci sarà un webinar in internet al quale noi vorremmo che partecipassero ovviamente le persone, chi vuole, ma soprattutto i medici. Perché? Perché il dottor Giuseppe Di Bella con i suoi collaboratori sta in pratica realizzando uno studio su una serie X di malattie oncologiche, giusto Giuseppe? Sì, esatto. Diverse forme di malattia tumorale e sta realizzando una cosa che è straordinaria, cioè per ognuna di queste tipologie c'è una cura, come affrontarle, giusto? Sì, esatto. Noi faremo questo webinar o forse anche un congresso. La cosa importante è consentire ai colleghi di intervenire nella discussione. Ripensiamo anche a un congresso, Giuseppe, un congresso di persone. Un congresso, esatto. Allora, libertà di intervento, quesiti, contestazioni, apertissimi. Allora, io questo materiale sarà quello che utilizzerò per la riedizione del libro sulla prevenzione dei tumori e la sietta antimonori. Inserirò la prevenzione terziaria che è la cura del tumore in atto. Per cui il miglioramento, la guarigione quando è possibile, il miglioramento della qualità di vita, prevenzione terziaria. Perciò quello che noi diremo, webinar o congressi, avrà una parte che è il modulo fisso della terapia che si rivolge ai denominatori comuni della biologia tumorale. E una parte, modulo variabile, per ogni singolo tipo di tumore. Per esempio, per i tumori della vescica si aggiunge una molecola, per il cercomono altri tipi di tumore. Perciò metteremo, per ogni tipo di tumore, sono 22 tipi di tumore, quelle che sono le varianti, modulo variabile. Metteremo anche la diagnostica, come si fa a diagnosticare la stadiazione, i risultati che abbiamo ottenuto e che abbiamo pubblicato. In maniera tale che un medico che è interessato può prendere atto del meccanismo d'azione, modulo fisso variabile e dei risultati che si possono ottenere. Confrontando i nostri risultati con quelli della letteratura internazionale, che sono riportati a livello internazionale, l'Istituto Nazionale del Cancro porta le mediane di sopravvivenza. A livello di tanti tumori abbiamo mediane di sopravvivenza pubblicate, verificabili da chiunque, con quelli ufficiali che sono ampiamente superiori a quelli riportati dagli organi ufficiali della letteratura. Li metterò per ogni tipo di tumore. Metterò anche come e perché, attraverso quale reazione biomolecolare si possono raggiungere questi risultati. Per questo sarebbe la mia ambizione, riedizione del libro sulla prevenzione dei tumori, la scelta di tanti tumori, con prevenzione terziaria. Giungerò anche le molecole che hanno... Cioè come curarli mentre ci sono? Come curare... Esatto, la terapia del tumore in atto. Come io faccio a curare diversamente un tumore della vescica, da un tumore della prostata, da un tumore del seno, da un tumore dell'utero. Allora, quelli che sono gli elementi base della patologia tumorale e quelli che sono peculiari di quella particolare patologia, emettendo alla fine di ognuno di questi tipi di tumori i risultati che noi otteniamo documentati, confrontandoli con i risultati ufficiali dell'oncologia. Per cui tutti possono verificare questi dati, sono pubblicati in gran parte. Quello che dicevi prima, ti ringrazio Lario, se abbiamo molto personale, riusciamo a fare statistiche, perché abbiamo pazienti da controllare, da raccogliere i dati dal 2006, tumore della mammella sono quasi 1800 casi di tumore della mammella, il personale può vedere i casi, raccogliere le cartelle, telefonare i pazienti... Scusami, scusami Giuseppe, 1800 tumori della mammella e che tipo di situazioni si è creato? Perché tu sai che è il tumore numero uno per le donne e intorno a questo si fa anche una grande gran cassa e anche un grande business. Allora, di questi casi, noi che cosa possiamo pubblicare? Quelli che secondo la letteratura internazionale sono casi verificabili. Perciò per essere verificabili ci deve essere tutta quanta la documentazione, con i riferimenti dell'ospedale, della clinica che li ha ricoverati, gli esami fatti con l'intestazione dell'istituto che ha fatto gli esami, casi verificabili. Abbiamo, di questi casi, sono circa 300 che hanno tutta la documentazione che la ricerca internazionale richiede perché un caso sia verificabile. Già 300 casi incominciano a dire che quelli sono verificabili. Ho capito, questi 300 casi a che cosa hanno portato per la paziente? Noi li abbiamo già comunicati, sia con Grecia che in pubblicazioni. Il dato rilevante è questo. L'oncologia ha una situazione piuttosto grave, con crongesi in fausta, nei tumori della mammella altamente aggressivi, triplo negativo. Noi abbiamo una quantità, un'alta percentuale di triplo negativo, guarito perfettamente. Un altro dato pubblicato, che alcuni tumori, stando molto attenti a selezionarli, alcuni tumori della mammella possono essere guariti senza operazioni. 20 li abbiamo pubblicati, ci abbiamo una ventina in corso di verifica. Un altro dato ancora, nei tumori metastatici del seno a quarto stadio, la percentuale di sopravvivenza a 5 anni dell'oncologia è del 26%. Noi praticamente in questi casi siamo al 69%. Non solo pubblicato, ma portato a un congresso internazionale in Nuova Zelanda sul tumore della mammella. Se voi andate su pubmed.gov, oppure su Resergate, cito Reserci a cagate, mettete Giuseppe Di Bella, questi dati che io vi dico sono pubblicati e li trovate. Ma com'è Giuseppe che io ogni volta che parlo con te mi scoppio a mal di testa a me? Io penso che questa reazione sia anche di tantissime persone, non lo so. Cioè io mi sento una specie di, non lo so, di vulcano dentro, pronto ad esplodere, perché sento queste cose e penso alla tanta sofferenza, penso alle persone, penso alle storie di famiglie, di donne, di uomini, di gente che ha queste storie qua, no? E penso, Giuseppe, te lo giuro, penso anche alla chiusura che c'è stata, alla chiusura che c'è stata di questa cosa e che ci hanno messo tipo una pietra tombale, ma come vedi, e io veramente dico che Dio te ne renda merito, perché tu hai avuto un padre, lo dobbiamo dire, che dal punto di vista scientifico era proprio di un'altra categoria rispetto a tutti. Io dico sempre che il professor Luigi forse aveva cinque cervelli messi insieme, ma tu, tu veramente non sei da meno, no? Perché hai avuto la forza, hai avuto il coraggio di abbandonare la tua professione di Iotorino Laringoiato, di grande successo a Bologna e di dedicarti anima e corpo e tutta la tua vita la stai dedicando proprio al fatto che gli studi di tuo papà non possano, non debbano andare persi, proprio per l'umanità, per la gente, per le persone e ti devo rendere, proprio, devo rendere atto, gli ascoltatori lo devono sapere, il dottor Di Bella non ha conflitti di interesse, non ci ha potentati alle spalle, c'ha solo noi, le persone, c'ha i suoi pazienti che lo ringraziano, c'ha la signora quella che ha 85 anni del tuo studio, come si chiama quella signora, la segretaria? Valeria, Valeria che se li porta benissimo, no sto scherzando, non è vero che ce n'ha 85, ce n'ha un po' di meno, ma se vi fate raccontare la storia sua, è veramente la suavità di Giuseppe, la serenità, poi non è che uno promette che praticamente queste malattie, però avete sentito, avete sentito, tumore metastatico, a 5 anni, di là, quell'ufficiale, sopravvivenza 25%, qui parliamo di 69-70%, allora io dico, le riviste, questi qui, ma voi, ma io dico, ma voi, ma solo i baroni volete fare, ma perché le persone le trattiamo come delle larve, perché le trattiamo in questo modo, perché le illudiamo, perché le illudiamo, io mi ricordo che ho cominciato tutta questa storia più di 20 anni fa, 25 anni fa, poi siamo arrivati alla sperimentazione che fu boicottata, e dopo 25 anni, io sempre i 200, 220, 230 mila morti all'anno, mi ritrovo di tumori, caro Giuseppe, me ne sempre, sempre di più, e anche ci si ammala sempre di più, e questo che significa? Questo che significa? Che vanno riviste sia la prevenzione che la cura. Vanno riviste la prevenzione e la cura, la prevenzione e la cura. Vabbè, Giuseppe, senti, io dico che questo congresso, questo webinar, tu adesso devi chiudere queste cose, devi rimpostare il libro, dobbiamo coinvolgere i medici. A me piacerebbe un giorno anche avere il dottor Giuseppe Di Bella e i medici che magari ci chiamano o li chiamiamo noi e magari si parla, si parla, ci si confronta. Vi prego, vi prego, cioè le vedo io quando vado a Bologna, li vedo io, i pazienti, felici, ma io ho una valanga di ascoltatori in cura con questa terapia, con Giuseppe, con altri medici che stanno bene, che hanno una qualità di vita migliore rispetto a quelli omologhi delle loro malattie. Allora, allora perché abbiamo chiuso la scienza e l'abbiamo esclusa questa scienza qua? Perché? Io lo dico proprio guarda con non sono più quello di 25 anni fa quello che con i megafoni andava sotto dal Papa, sotto dal Governo, io in realtà sarei anche peggio adesso perché me sono rotto proprio le palle di questi cialtroni, me sarei proprio, però, però, dobbiamo utilizzare un altro procedimento, dobbiamo essere più capito, non dobbiamo creare gli allarmi sociali, ma noi non vogliamo creare gli allarmi sociali, però mi dovete spiegare perché perché tante donne per esempio scelte in un certo modo non sono mai state operate di tumore al seno e dopo 7-8 mesi di cura, 8-9 mesi di cura il tumore è scomparso. E perché? Ma qualcuno, qualcuno che prende questi seni li massacra, li cosa, li fa le chemie e tutto quanto, qualcuno, dico qualcuno, qualche, qualche medico, se lo farà venire un dubbio o no? Di questi sarcomi dei quali ha parlato prima il dottor Di Bella, a qualcuno verrà in mente che c'è qualcosa allora di concreto che è fuori dai loro maledetti a volte protocolli che ti imbrigliano perché sono protocolli che ti attirano, protocolli che ti, come ti posso dire, in qualche modo ti ammaliano e poi ti abbandonano perché io li conosco le persone alle quali avete promesso che c'era l'ottanta per cento di possibilità di salvarsi e poi non si sono salvati dopo cinque anni, sette anni, otto anni. Ok? La gente, le famiglie italiane lo sanno bene di che cosa sto parlando. Non mi sto inventando assolutamente nulla. Io chiedo però con il dottor Giuseppe Di Bella che questi studi che ormai sono molto più avanzati vengano presi in considerazione, vengano esaminati e i casi venga fatto uno studio cosiddetto osservazionale. Come è possibile che quelle dieci, venti, cento, duecento, trecento persone vivano quando per la medicina cosiddetta per i protocolli ufficiali dovrebbero essere morte? come è possibile ma qualcuno se lo porrà a questo tema o no? Che è un tema di rimente perché c'è la vita e la morte e c'è la qualità della vita anche la qualità. Vogliamo parlare della qualità? Vabbè. Giuseppe ti voglio non bene di più sei il papà di tutti noi e grazie per quello che fai e comunque stai in una forma splendida. Dai Giuseppe un bacione. Grazie a voi. Ciao. Grazie a voi.